Ciao a tutti, qui è Bassonimus che parla. Noto con piacere che il Baseline 2.0 è attivo. La missione è stata completata con successo, ma non è finita qui. Il 31 ottobre Baseline si trasformerà nella Casa del Basso, un evento speciale solo per i più audaci. Cosa saresti disposto a fare per entrare nella banda? Il piano è semplice, sarà come rubare le caramelle a un bambino. Sei di voi saranno selezionati per partecipare all'evento, ma solo uno si porterà a casa a bottino. Scopri come partecipare seguendo le istruzioni che trovi qui sotto in descrizione. Buona fortuna! Grazie a tutti! Grazie a tutti!